Zero positivi per il quarto giorno consecutivo. Il coronavirus sta dando una tregua al Molise, peraltro dopo la guarigione della mamma e del bimbo Kosovari di Stanza Pesche. La piccola regione è tra le tre covid free insieme a Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Nelle ultime ore sono stati processati 102 tamponi, tutti negativi. I positivi attuali quindi restano 33, di cui uno solo è ricoverato. Si tratta del papà, Kosovaro, che è ancora in malattie infettive al Cardarelli di Campobasso e le sue condizioni sono stabili. Gli altri 32 positivi sono tutti asintomatici e isolati a domicilio. Diminuiscono le persone in quarantena, ora sono 49. L'ASREM prosegue con test e tamponi e anche con le visite domiciliari. A livello nazionale si è registrato un calo dei contagi, 259 totali nuovi casi, quindi circa 200 e meno rispetto al giorno prima. Il virus ora è in sei comuni del Molise, con 24 casi a Campobasso, 4 a Isernia, 2 a Campolieto, 1 a Boiano, 1 a Pesche e 1 a Ururi.